Un cordiale saluto. Benvenuti nello spazio meteo per venerdì 11 novembre 2022 a cura di Meteograd. Quadro riassuntivo su simulazione satellitare. Un vasto anticiclone insiste in area centro-orientale europea innescando un flusso di aria fredda di matrice balcanica sui settori mediterranei. Nel mentre una saccatura polare interessa l'Atlantico. Segue ora il dettaglio modellistico previsionale e successiva tendenza. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo. Un affondo polare di matrice canadese si tuffa sull'Atlantico centrale per mezzo di una vasta saccatura perturbata. Ciò costringe l'anticiclone oceanico a spostarsi sul continente europeo, dove si rafforzerà ponendo i suoi massimi sui settori ucraino-rumeni. Questa configurazione innesca un flusso di aria fredda sul bordo meridionale di tale anticiclone, diretto verso il Mediterraneo, dove tenderà a scavare un minimo depressionario al sud Italia. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 11 novembre 2022. Nord. Nubi sparse con addensamenti più compatti sui settori nord-orientali. Non sono da escludersi delle foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Valpadana centrale nelle prime ore della mattinata. Centro. Parzialmente nuvoloso con addensamenti più compatti a ridosso dei rilievi e lungo le adriatiche a causa di infiltrazioni di aria più fredda dai quadranti settentrionali. Sud e isole. Nuvolosità irregolare, più compatta sulle regioni ioniche e sull'est della Sicilia, dove potrebbero aversi dei rovesci sparsi. Spazio anche per ampie schiarite sulla Sardegna e sui settori tirrenici. Temperature massime nel complesso stazionarie su tutte le zone. Minime in lieve calo nelle pianure del nord e localmente del centro nord a causa dei cieli sereni nottetempo e dalla scarsità di ventilazione notturna. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti settentrionali con locali rinforzi al centro-sud e dal largo del tirreno. Mari generalmente mossi con moto ondoso in aumento su tutti i settori. Concludiamo con la tendenza su scala nazionale per i successivi due giorni. Weekend con aria fredda di matrice balcanica in scorrimento sul bordo meridionale di un vasto anticiclone a venteperno sull'Europa centro-orientale. I cieli si manterranno irregolarmente nuvolosi con nubi più compatte sulle regioni meridionali e basso-adriatiche, zone in cui nella giornata di domenica si approfondirà un minimo depressionario. Atteso maltempo sulle regioni ioniche, in risalita verso nord. Ventoso con temperature in calo. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni giornate.